Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, la polizia stradale ha sorpreso ed arrestato due uomini in a uno con documenti falsi. Certe d'identità valide per l'espatrio, tessere sanitarie e buste paga, tutte rigorosamente false, create secondo gli investigatori per compiere reati ed uscirne puliti. È quanto scoperto dagli agenti della polizia stradale di Arezzo. I poliziotti nel corso di un controllo hanno fermato nel tratto a retino della 1-1 Dacia Duster all'interno della quale viaggiavano due uomini, un 46enne ed un 37enne, entrambi residenti nel napoletano con alcuni precedenti alle spalle. A tradire due il nervosismo mostrato durante il controllo. L'eccessiva preoccupazione ha infatti insospettito gli agenti che hanno deciso di estendere il controllo a tutta la vettura. È così saltato fuori dal vano dei fusibili e sotto il cruscotto un imbollucro contenente documenti falsi, tutti con impresse le fotografie dei due fermati ma con nominativi fittizi. Un controllo più accurato in caserma poi, utilizzando la lampada Vood, ha fatto risaltare subito la mancanza di alcuni elementi di sicurezza che i documenti avrebbero dovuto presentare. Per i due sono scattate le manette, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Arezzo in attesa del giudizio. Il 118 dell'Astra Toscana Sud-Est questa mattina è stato attivato dopo le nove e mezza per un incidente stradale nei prezzi di case sparse Monsignolo nella comune di Cortona. Convolta una moto, un uomo di 34 anni è stato trasportato con Pegaso alla pronto soccorso dell'ospedale delle Scotte di Siena in codice 2 sul posto, oltre ai sanitari anche ai vigili urbani per i rilievi di legge. E' una disavventura invece per una ragazza ieri pomeriggio, caduta da una cascata del torrente Afra Sansepolcro. Sul posto i vigili del fuoco che hanno raggiunto nell'acqua la giovane dove è stata stabilizzata ed assieme al personale della 118 è stata assicurata alla barella per evitare ulteriori lesioni. Successivamente è stata recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco Drago e trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo. A Sant'Andrea Pigli invece un'escursione in mountain bike si è trasformata in una brutta avventura per una ciclista trentenne caduto e finito fuori dalla sentiero, anche in questo caso in una zona impervia. Con lui c'era un amico che ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari che hanno attivato e lì soccorso Drago che con un verricello ha recuperato il ferito portato alla San Donato. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Via Fogliano della Chiana invece un episodio decisamente insolito. Una famiglia dopo aver lasciato il camper in sosta per l'inverno quando è andata a riprenderlo ha trovato dentro una persona che ci abitava. Si è reso così necessario l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento, invasione di beni immobili altrui e violazione di domicilio. E adesso la cronaca giudiziaria. Torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta nella dicembre 2022 a Pozzo delle Chiana. La pena per il cinquantenne in appello è stata quasi dimezzata. Pena ridotta, anzi quasi dimezzata, per il cinquantenne che a Pozzo delle Chiana aggredì la moglie con un martello colpendola più volte alla testa da sei a tre anni e mezzo di reclusione. Era il 12 dicembre del 2022 quando l'uomo l'aggredì all'interno del loro appartamento. Una tragedia sfiorata. La donna si salvò chiedendo aiuto in strada ai vicini. Fu portata d'urgenza in ospedale a Siena, rimase in osservazione per alcuni giorni, ma fortunatamente le lesioni craniche alla fine risultarono meno gravi di quello che poteva sembrare inizialmente. I carabinieri arrestarono subito il cinquantenne, processato, corrito abbreviato ad Arezzo per tentato omicidio, dopo lo sconto di pena fu condannato a sei anni. Adesso a Firenze la Corte di Appello ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, da qui la riduzione a tre anni e mezzo. La posizione del cinquantenne si alleggerisce anche dopo il ritiro della querela da parte dell'ormai ex moglie, presentata in questo caso per maltrattamenti. Il cinquantenne si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dell'appartamento di Pozzo della Chiana. Nel frattempo ha già risarcito la donna. Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana, è stato eletto nella giunta esecutiva di Utilitalia, la federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia e del gas dell'Italia. L'elezione di Alessandro Fabbrini è arrivata nel corso dell'Assemblea Generale che si è svolta ieri a Napoli. E anche la fondazione Arezzo Comunità si avvia ad affrontare un nuovo triennio di lavoro nel segno della continuità. Sono stati infatti riconfermati in toto i componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina comunale. Il sindaco Ghinelli ha rinnovato la fiducia alla presidente Lucia Tanti e i consiglieri uscenti Andrea Fratini, Gabriella Rossi, Stefano Parati ed Enrico Maria Rossi. Ha confermato anche Monica Puzzella quale revisore dei conti. A completare il CDA, poi due membri che saranno eletti dall'Assemblea dei Socii, convocata dopo l'estale. E anche oggi, come ogni primo fine settimana del mese, è tornata alla fiera antiquaria per questa edizione con un boom di presenze. Ma dall'aspettativa è molto meglio degli altri anni. Noi 80 anni si fa e 25 anni si fa il mercato ad Arezzo, è sempre andata peggio. Però stamattina si è visto molto interesse da parte di tutti, sia stranieri che italiani. Una fiera antiquaria di luglio che supera decisamente le aspettative sotto il profilo dell'affluenza. Un sole che spacca le pietre e che quindi richiama ad Arezzo tanti turisti. Ovviamente, dal punto di vista degli espositori, c'è la speranza che tutto questo poi si traduca in affari. Where are you from? Denmark. We come here every time there's a market antique market. Veniamo ogni volta ad Arezzo quando c'è la fiera. Abbiamo una casa vicino al lago Trasimeno e per noi è un piacere. Veniamo qua da tanti anni. È una fiera che comunque attrae moltissimo da tutta Italia. Ancora c'è gente che viene da Roma o da posti abbastanza lontani, proprio appositamente ad Arezzo per la fiera. Una storia che si avvia verso i 60 anni, quella della fiera antiquaria, ma che nel tempo non ha mai variato il suo fascino. Voi visitate Arezzo proprio specificatamente per la fiera? Sì, oltre comunque per la città perché è bellissima. Oggi siamo venuti con due amici e gli abbiamo fatto visitare la Pieve, San Francesco, le pale con la cappella. Tutto bellissimo. Arezzo è un gioiello. Case d'asta, il loro ruolo e come influenzano il vostro mercato? Domina e determina il nostro mercato. Non ne abbiamo una fissa qui ad Arezzo, cioè ce n'è una piccolina fissa ad Arezzo. Hanno tentato di aprire un'altra alla Fraternita dei Laci per qualche mese. La cosa purtroppo non ha funzionato, faceva molto comodo in coincidenza con la fiera e animava il mercato. Serve, ad Arezzo serve una casa d'asse. E' uno sfogatoio per i clienti, anche per gli antiquari. E dove non c'è si pensa che il mercato sia più labile. E non si deve pensare per Arezzo. Bisogna che se tiano da fare. E se qualcuno chiede al comune uno spazio per fare una casa d'aste, il comune deve fare le acrobazie per trovarglielo. Le deve fare nell'interesse della città. Non nell'interesse del singolo antiquario, e neanche del singolo settore della città. Perché poi, dove funziona l'antiquariato, funziona il turismo. Restiamo nel cuore della città. Ieri sera taglio del nastro per la scalinata del Palazzo di Fraternita, appena restaurata. E' uno dei palazzi più ricchi della Toscana. Più belli nella sua collocazione sulla piazza. L'elemento di cesura, basta prendere una cartolina, è questa scalinata. Qualcuno mi potrà dire, ma è di un secolo fa, ma il restauro di questa scalinata dà un senso e un profilo di identità alla piazza che rende l'opera di oggi forse il più bel regalo che potevamo fare al Vasari. E volevo essere qui perché Arezzo, cartolina, elemento distintivo di una Toscana che guarda al mondo. L'elegante scalinata del Palazzo della Fraternita dei Laici, appena restaurata, è stata riconsegnata alla città. Piazza Grande, una vera e propria festa con musici, coro, rappresentanze dei quartieri e fanti, il tutto incorniciato da una notte d'estate. Questo rifacimento non è soltanto una questione di decoro, ma è una questione di identità, è una questione di appartenenza, è una questione di piena retinità nel restituire alla città di Arezzo, nella sua straordinaria compostezza, uno degli aspetti più identitari che caratterizzano tutti noi. La scalinata è stata realizzata con il travertino delle cave di Rapolano, le stesse da dove venne estratto nel 1780 il materiale utilizzato per costruire la balaustra del Palazzo e nel 2018 per la pavimentazione. 43 le tonnellate di marmo necessarie per costruire la scalinata, composta da 14 gradini e da 108 blocchi di travertino, tutti diversi tra loro. Noi adesso mettiamo a disposizione come fratelli dei laici un patrimonio culturale e anche un patrimonio artistico che potrà essere usufruito dalle persone che vengono da Arezzo, ma anche dagli aretini stessi, perché intere generazioni si sono sedute proprio su questi scalini e continueranno. Questa scala racconta la storia della piazza, ma questa scala darà anche nuova luce alla piazza e al tempo stesso porterà un contributo ad una lettura nuova della piazza che non è solo una piazza medievale, ma è una piazza rinascimentale. Qui ci sono diversi stili. La facciata della nostra fraternità è una facciata che ha visto eventi storici ormai da 761 anni. Seguendo un'antica tradizione, infine prima di terminare i lavori nella base della nuova scalinata sono state depositate delle monete, ma non solo, una testimonianza per i secoli a venire. Con risorse per quasi 2 milioni di euro, la regione toscana ha scelto di sostenere anche per il 2024 musei ed eco-musei di rilevanza regionale e sistemi museali. Le risorse sono state assegnate tramite due bandi diversi. A 109 enti tra musei ed eco-musei andranno 1.200.000 euro, mentre a 26 sistemi museali territoriali e tematici andranno 500.000 euro. Ulteriori 250.000 saranno liquidati ai sistemi museali a conclusione delle attività del bando precedente relativo al 2023, ma con scadenza delle attività a marzo 2024. Tra questi 109 e 15 musei di rilevanza regionale si trovano in provincia di Arezzo. E tra questi c'è anche il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, che ha ricevuto anche un altro importante riconoscimento. Se noi parliamo anche con questo microfono e con una telecamera che qui in wireless si deve proprio a Marconi. Marconi è l'inventore del broadcasting, del wireless e di tutto quello che riguarda la telecomunicazione via etere. Al MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, sono esposte apparecchiature originali che ricordano i primi successi di Guglielmo Marconi, l'inventore del radio. Un'esposizione in occasione dei 150 anni dalla nascita dello scienziato, ma che celebra più in generale le telecomunicazioni. Nel 2024 si celebrano infatti anche i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia e i 70 della televisione. Ed adesso per il Museo Aretino è arrivato un importante riconoscimento. Il Museo di Arezzo è stato inserito in tutte le manifestazioni marconiane che vengono fatte a livello nazionale in accordo con questo comitato tecnico-scientifico che il Ministero dei Beni Culturali ha istituito proprio per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Abbiamo mandato tutto il nostro programma, quindi la mostra che è stata inaugurata il 15 febbraio, quando ancora il comitato era da istituire e che comunque noi abbiamo già fatto questa cosa come esperimento. Abbiamo mandato le fotografie, abbiamo mandato una parte del convegno che abbiamo fatto. In più dopo abbiamo realizzato per la parte Rai, per esempio questi televisori che voi vedete accesi sono televisori degli anni 50 che giustificano anche l'importanza dei 70 anni di radio di Rai in Italia. In più dopo la mostra, che è quella che parte da Guglielmo Marconi dai suoi primi esperimenti e si sviluppa con lo sviluppo della radio, della radiofonia, praticamente da quella valvole passa a quella transistor come noi qui abbiamo, dai transistor a quelli miniaturizzati addirittura ancora più con i microprocessori che sono quelli che hanno consentito anche di mettere in tasca anche il televisore. E quindi abbiamo oggi nel cellulare sia la radio, sia il televisore, sia tutto quello che riguarda la comunicazione e che praticamente è un fatto di cambiamento sociale che la radio rappresenta il mondo in tasca. Questo è il titolo del libro che io ho scritto di 350 pagine che ha contribuito ovviamente ad essere creduto come serietà di manifestazione che abbiamo fatto qui ad Arezzo e il titolo è Il mondo in tasca e che è il titolo anche di tutte le manifestazioni che noi faremo per tutto l'anno. Voltiamo pagina per raccontarvi la storia di un veterinario della provincia di Arezzo, Alberto Brandi che adesso ha messo nero su bianco il suo amore per gli animali. Come si ama un animale? Beh, un animale l'ideale sarebbe amarlo come lui ama noi e quello sarà impossibile perché come ci può amare un animale, chi ha un cane o un gatto lo sa, ma anche un cavallo, sa che questo amore reciproco è impossibile perché quello che danno loro a noi noi non lo potremmo dare mai a loro. Vi si chiama appena fatto! Una vita davvero spesa per gli animali, quella di Alberto Brandi, veterinario che ultimamente ha messo nero su bianco alcune sue riflessioni in un libro che si intitola Gli animali ci salvano. Ci salvano perché nasce da una mia vicenda personale che quando sono stato ricoverato per Covid in un periodo in cui ancora il Covid era abbastanza sconosciuto per cui non c'erano vaccini, non c'era niente, quindi c'era un po' la paura. Si vedevano i camion, i ricordi militari che uscivano con le bare, sono stato appunto in terapia subintensiva, quindi con il casco e quindi una situazione abbastanza critica e diciamo tra i pensieri che mi affollavano in quel momento, la notte soprattutto, la mente c'è stato proprio il ricordo degli animali che hanno attraversato la mia vita. E il cane si chiama? Sulla Sulla Visto quando uno arriva a fine vita che rivede tutta la vita, io rivedevo gli animali perché alla fine sono passato tutti gli anni con gli animali, ho passato alla fine da quando avevo 12 anni ad ora. Ecco, questa passione quindi come nasce? Perché nasce? Che poi è diventato il lavoro di una vita? Nasce come lo descrivo nel libro da un incontro che ho avuto con il mio primo gatto, lo trovai in una discarica proprio a ridosso del paese e da lì alla fine tramite delle vicende che poi vado anche a narrare insomma ho accumulato diciamo questa passione, questa voglia di fare qualcosa per loro. La vita privata di chi fa questo lavoro è sicuramente influenzata, la mia forza ancora di più perché sono uno che dà tanta disponibilità. È veramente una vita bella però con tanti sacrifici appunto personali che ti ti... ma non è brandi Alberto probabilmente se tu intervisterai qualsiasi veterinario ti dirà questa cosa. È una vita spesa per gli animali anche per farli adottare, cioè voi vi spendete davvero in prima persona insomma gatti ma non solo perché l'adozione deve essere un'adozione anche consapevole. Quello sicuramente, noi purtroppo in provincia d'Arezzo, parlo della provincia d'Arezzo perché è quella che conosco abbiamo questa piaga che secondo me è una vera e propria piaga degli abbandoni dei gatti, dei gattini piccoli. Non è bello, tu prima hai fatto delle riprese anche nelle gabbie, vedere questi gattini che poi a volte arrivano sani a volte invece arrivano malati, sono soli, vivono ora d'estate su gabbie calde. Noi più di quello non possiamo fare che curarli da mangiare e cercare un'adozione. Però vi assicuro che non è una cosa bella da vedere perché però secondo me ci vorrebbe poco, ci vorrebbe che le persone sterilizzassero. Le sterilizzazioni non costano un patrimonio. Quando si prende un animale bisogna essere consapevole di quello che si fa. Cioè non è che sono peluche o il regalino da fare perché costa poco. Per cui pensateci perché dopo ci lo ritroviamo sulle spalle tutti. Spero che su questo libro la gente apprezzi sia la mia sincerità, nel senso di sentimenti sugli animali, sia che impari ad amare gli animali. Domani torna il Cammino della Traslazione, un pellegrinaggio-escursione di 30 km che si svolge in gran parte su strade bianche, sentieri Boschivi, Trasciano e Santa Maria delle Vertighe. Torna domenica 7 luglio a Monte San Savino, in particolare alle Vertighe, il Cammino della Traslazione, un pellegrinaggio-escursione di circa 29 km che si svolge in gran parte su strade bianche e sentieri boschivi tra Asciano e il Santuario di Santa Maria delle Vertighe. Quest'anno è la settima edizione. L'evento si svolge proprio il 7 di luglio, data nella quale, secondo la tradizione popolare, nell'anno 1100 una cappella in pietra con l'immagine sacra della Madonna fu trasportata dagli angeli dalle campagne di Asciano fino sul colle delle Vertighe, per evitare un fratricidio per motivi di eredità. L'antica leggenda è rappresentata nel rosone collocato sulla facciata del santuario e in un affresco interno, riportata da varie fonti bibliografiche. Al di là della leggenda, è fuor di dubbio che il santuario di Santa Maria delle Vertighe sia da secoli al centro di una devozione e di sentimenti popolari molto forti, anche in virtù del fatto che dal 1964 la Madonna delle Vertighe è stata dichiarata patrona dell'autostrada del Sole. A Cortona, invece, esposte le opere originali di Banschi, una mostra non autorizzata, visitabile nell'auditorium chiesa Sant'Agostino. Nei suoi quadri c'è sempre qualcosa legato alla socialità. Alle mani che si alzano perché qualcuno gli punta addosso qualcosa, al fatto che la disacrazione non è mai compresa. Adesso mi viene in mente l'uomo con i fiori che è felice perché con i fiori passeggia, saltella in mezzo alla strada. Conosciuto per il suo stile ironico, provocatorio e sovversivo, Banschi ha conquistato un posto di rilievo nel panorama artistico contemporaneo, diventando un simbolo della street art. Alcune delle sue creazioni sono addirittura diventate vere e proprie icone. Perché lui poi dipinge quando ne ha voglia, quando si sente ispirazione. Non puoi metterlo in un posto chiuso con un cavalletto. Mentre va per strada, gli viene l'idea di fare qualcosa, si ferma e dipinge sul muro, dipinge su un cartellone in un storante, dipinge, che ne so, in una chiesa. Adesso cinque di queste sue opere originali, accompagnate da numerose litografie dell'artista, sono esposte a Cortona in una mostra promossa dall'associazione Castiglione del Cinema. Le opere sono cinque originali, più dieci serigrafie, che noi abbiamo avuto in gestione per un po' di tempo, da una proprietà privata, non direttamente da Banschi. Perché lui le opere non le dà nessuno e non le vende, o le vende o le regala. Realmente le regala, quasi sempre. Poi diventano collezioni personali e private, le utilizziamo anche noi. Cortona perché, intanto perché la location era molto bella e mi è piaciuto subito, e poi perché fare una mostra di Banschi in una chiesa consacrata è una cosa quasi impossibile. Sarà possibile visitare la mostra dal titolo Banschi Forever negli spazi dell'auditorium chiesa di Sant'Agostino, sino a domenica, 21 luglio. Anche questa non è ufficiale, non è autorizzata. È autorizzata dal proprietario dei quadri, ma non da Banschi, assolutamente no. Noi però abbiamo tutte le manleve, tutti i documenti necessari, perché questo si possa fare. Sarà una lunga estate quella della Perla della Valdichiana, contrassegnata dagli ormai mancabili eventi del contenitore di giovedì sere ed estate a Lucignano. Il programma si sviluppa su nove serate ogni giovedì fino al 29 agosto, con tanti temi, tanti eventi declinati per ogni preferenza. Dagli appuntamenti musicali agli spettacoli, rievocazioni storiche, cene all'aperto con menu dedicati all'eccellenza del territorio e poi intrattenimento per grandi e piccini. La serie di appuntamenti sarà inaugurata l'11 luglio con la suggestiva cerimonia dell'apertura del portone del Borgo. Al Parco Pertini di Arezzo, invece, inizia un percorso teatrale per bambini e famiglie. Ogni martedì alle 17.30 spettacoli nel verde. Si tratta di una rassegna organizzata dalla Cooperativa Sociale Coenè in collaborazione con Officine della Cultura, patrocinata dal Comune di Arezzo in collaborazione con Amenchetti e Chimeragolda. L'inizio è previsto per il 9 luglio con il Teatro del Cerchio, che presenterà il gatto e la volpe aspettando Mangiafuoco. E gli appuntamenti, 5 in tutto, andranno avanti sino al prossimo 6 agosto. E adesso la pagina dello sport. L'Arezzo Calcio Femminile annuncia il rinnovo del contratto della calciatrice Maria Giulia Tuteri, che continuerà a vestire la maglia amaranto. Tuteri proseguirà così l'avventura vestendo la maglia del Cavaldino per il quinto anno consecutivo, confermandosi vicecapitano e punto di riferimento per tutta la squadra. Conferme anche in casa SBA, la scuola Bacchettarezzo ha annunciato la conferma e squadra di Fabrizio Terrosi per le Maker Classe 2004, che sarà la sua terza stagione in Maglia Maranto, dove si è sempre distinto per una grande combattività e determinazione. Questa perra stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS Grazie.